E a proposito del patrimonio d'arte religiosa compromesso dal terremoto c'è una novità, le diocesi colpite dal sisma chiedono di diventare responsabili come enti attuatori del recupero della messa in sicurezza e dei successivi restauri dei beni danneggiati. Oggi pomeriggio a Roma nella sede della CEI si sono ritrovati i vescovi delle aree terremotate con il segretario generale Galantino e i responsabili del ministero dei beni culturali. Un primo tavolo per mettere a punto uno schema di azione che comprende lo studio di detrazioni fiscali a favore dei privati che contribuiscono al recupero di opere d'arte religiosa danneggiate.